20 ottobre 1944 milano è colpita dal bombardamento più massiccio della guerra aerei americani colpiscono gli stabilimenti della breda dell'alfa romeo e dell'isotta fraschini ma un belivolo sbaglia bersaglio e lancia le sue bombe sulla scuola elementare francesco crispi nel quartiere di gorla muoiono insieme ai loro insegnanti 200 bambini